Ciao a tutti, prima novità, manca qualcuno di ingombrante, anche artisticamente di ingombrante salutiamo il nostro Teo che non sta bene a casa Ci siamo accorti che stiamo invecchiando, perché ogni settimana c'è un acciacco nuovo Esatto, vi sarete accorti che ogni settimana il team cambia, questo perché stiamo invecchiando e quindi faremo a breve dei casting per trovare i nuovi membri del Crazy Team perché prima o poi, tocchiamoci Maroni, ma siamo passati da bere un sacco di cocktail a farci dei cocktail di farmaci Salutiamo anche Jack Ciao Steve, ciao ragazzi, non sapete quanto mi siete mancati? Eh, anche noi, anche noi Allora, giovedì ci siete voi, noi ci divertiamo, soprattutto prima e dopo la diretta Adesso vi chiedo una cosa, voi a casa che avete in mano questo strumento infernale, cliccate sul tasto condividi